Ma che cosa hai? E non dire che non... Ho capito che ti fa male Allora, tu ci vieni, guardate un po' come è conciata Vanessa E questo è niente Adesso è tranquilla Ma fino a pochi minuti fa piangeva disperata Perché? Non faccio nulla Caspita E ricontorta alle coliche E perché le coliche? Vanessa, se ce la fai Se in questo momento la colica ti è passata Racconta un po' il pasto di oggi Senza sorridere tra i passi Ma io non ho franzato perché Perché credo che avevi già fatto il cibo ad anni Allora, a che ora ti sei alzata? Luna All'una E che cosa hai mangiato all'una quando ti sei? Colazione E che colazione hai fatto? Con Le spogliottine Poi? L'estatè L'estatè Poi? Niente Poi dopo Quando mi sono mangiato gli ultimi Mi credo che c'erano E erano tre Ok Hai mangiato qualcos'altro? No Sì? No Non hai mangiato nient'altro? No Sei sicura? Sì Mi avevi chiesto forse pari nutella E io non te l'ho fatto Fortunatamente Poi alle quattro e mezza appunto avevi fame ma erano le quattro e mezza E volevi pane nutella No no io volevo qualcosa di mangiare Non volevo fare nutella Tu non me l'avevi fatta più Esatto Mi avevi chiesto pane nutella all'inizio dopo la colazione dell'una Poi mi hai detto mi fai pane nutella alle quattro e mezza? E ti ho detto no ti faccio pane prosciutto E hai mangiato pane prosciutto Ieri sera siamo andati a guardare un film io e te Ma vabbè non puoi dire A che ora siamo andati a guardare un film? Mezzanotte 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 più o meno Cosa hai voluto mangiare? Che io ti ho detto non mangiare Ma non ho fame Hai capito che avevi fame ma non si mangia all'una di notte E che cosa hai mangiato all'una di notte? Non mi credo ma pochi Pochi? Hai finito la confezione Non è vero Hai finito la confezione Sei bugiantissimo Ma che tu li hai mangiati? No ma cosa hai mangiato? Quattro Ma sai perché li ho mangiati? Non perché li volevo mangiare Perché non volevo che li mangiassi tutti tu No si deve più mangiare dopo i pasti Piuttosto ti bevi una tisana Eh ma non lo volevo fare Ascoltami allora vai a dormire Ri girati Che ti spiego un'altra cosa Girati Girati Il tuo organismo ti sta dando dei segnali Vanessa Ti sta dicendo di smetterla di mangiare solo cose zuccherate Mangiare e bere Quindi Stasera mangi un po' di riso in bianco E domani non tocchi niente di dolce Vedi di saziarti molto stasera Perché tu andrai Come? E non schiacciarla Ti senti meglio adesso? No Ancora hai mal di pancia ma non come prima Prima piangevi E non dire che non Ho capito che ti fa male Vieni qui Io? Amore io sono tutta sudata perché ho appena finito di fare palestra E devo andare a farmi una doccia veloce Vieni su con me Mi fa male È tornato Sì Ti ho dato anche i fermenti vediamo se funzionano Vuoi un tè caldo? Tè Trampi Addominali Hai capito? La lezione O no? O da domani ricominciamo da capo? Ok Appena Prendi qualcosa di dolce in mano Ti giuro Vanessa Che bu Amore Amore Mi dispiace Amore Amore Tanto Ti è tornato adesso? Perché Non è ancora una posizione? Eri tranquilla Perché non vai sul lettino pancia in giù? Eh? Non riesco Non riesco Io non riesco a portarti Andiamo insieme piano piano? Aspettiamo che passa la colica? Sai cosa chi sembri? Una donna incinta che sta per partorire Hai la contrazione? Adesso devi contare Quante contrazioni hai E quanto sono ravvicinate l'una con l'altra Perché se è ora andiamo in ospedale In sala parto Ok? Sto scherzando Amore Bimba Facciamo panino e nutella? Di la verità No Lo mangeresti? No Non ci credo Te lo faccio Vieni su con me Ciao Van Non posso muovermi da così Eh? Non posso muovermi da così Perché se mi gira un pochino Mi fa male Devo stare così per sempre Va bene amore Starei così per sempre Va bene Non fa male Ti sono venute belle toste eh Sto giro Magari poi c'è un virus in giro Non lo so eh Però mi sembra strano Anche perché stai male solo tu Allora Vanessa Io da quello che ricordo Non è la prima volta Che quando tu mangi troppe schifezze Poi stai male Vero amore? Vero che ti vengono spesso? Un po' Eh Quindi vuol dire che tu hai il colon delicato Che si irrita facilmente Sai chi è che era così? Il colon La zia Samantha La zia Samantha soffriva di coliche E stava sempre 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 male Ma noi da piccole mica mangiavamo tutte le cose che mangi tu adesso eh Anzi Non avevamo niente Quindi adesso Vedi di prendere questa camomilla Non riesco Vuoi la cannuccia? Ma ti fa male? Ma ti fa male il fianco? Tutto Ma anche il fianco? Davvero? Come vai il fianco? Tutto Domani mattina se continuo tutto il giorno chiamo la pediatra e andiamo dalla pediatra ok? Sì Speriamo di non finire in ospedale stasera Sì Tirati su È calda è calda se la prendi da lì eh Dai su mamma mia Sembra che hai subito lì Dammi Eh ma se la prendi da quella che è calda senti Ma dai Allora aspettiamo che si raffredda un po' Perché tu te la rovesci addosso ok? Io mi devo andare a fare la doccia Vanessa Sono sudata sto asciugando tutto il sudore sul mio corpo Domani sono tutta bloccata Vieni su con me Non riesco Ti accompagno io piano piano Saliamo insieme alle scale È una mia mia Dottore Buona tachipirina Passa il dolore Dai vieni su che te la do Non riesco Ma ti ho detto che ti do una mano Non riesco E allora devi aspettarmi qui Ma che cosa hai? Non riesco Ma spiegami bene Dov'è che ti fa male? Non è che hai delle coliche renali? Dov'è che ti fa male? Ma anche i fianchi? No Non male Stavo già preoccupando eh Stavo già andando a prendere la macchina La borsa non la vuoi? Dall'acqua calda Dai Chi ha? Amore Però io un paninetto con la nutella me lo farò Allora amore tachipirina presa Sta un po' meglio Leggermente Vuoi farti un riposino? No No perché se non posso Non dormi più Meglio che vai a dormire stasera Sei tanto stanto Andiamo giù E ci guardiamo Il bambucione Finiamo di guardarlo? No E poi vogliamo dire Stasera io e te No Oggi È sulle sette tra un po' amore Devo preparare la cena Comunque dai va bene Andiamo a finire di guardarlo? Sì Ti senti meglio? Sono contenta Sì La camomilla però la bevi eh Sì Ok Stai? Meglio Allora Quando cammino Anche così sto bene Solo che quando Tipo magari Devo muover così Mi viene un po' Ti viene una fitta? Però mi devi dire Vanessa Se ti vengono le fitte ai fianchi No Qua no È passato? Se ti viene male ai fianchi Possono essere i reni Capito? Non possono essere appendicite No Il producito è più bassa Però I fianchi sono pericolosi Vabbè Quindi è passato ai fianchi? Sì Va bene Allora tu vuoi mangiare il pollo con le patate O preferisci del riso in bianco? No Non mi dire che non hai fame Perché poi stasera hai fame E mangi stupidaggine Riso in bianco o no? A ora di cena si cena Tutti quanti Io voglio le patate E il riso in bianco Quindi te lo faccio Vuoi riso e patate? No Quindi vuoi le patate che sto facendo Sì il riso in bianco però con l'olio Sì certo Con l'olio e formaggio Eh Va bene? Boh dai sono contenta che stai meglio Allora Anastasia Quando tu eri fuori a giocare Vanessa ha iniziato a stare molto male Ok? Ha iniziato a avere delle coliche fortissime Alla pancia Questo perché stamattina Si è svegliata All'una E ha mangiato solo ed esclusivamente dolci Ieri sera quando guardavamo il film a mezzanotte Si è mangiata ai micado Non so perché quando sono andata a mancare il telefono Ho visto il mercato Ok Quindi da oggi in poi E giuro che da adesso Da questo momento I dolci si mangiano una sola volta Quindi scegliete se al mattino Se al pomeriggio La sera non si mangiano Al mattino se ti alzi e fai colazione con panina E a mella Anche Ma uno solo Un panino alla nutella a colazione E un paninetto alla nutella a merenda O un qualsiasi E al pomeriggio La merenda è al pomeriggio Basta La sera Dopo cena Oh Non si tocca più cibo Si cena e si pranza I pasti sono due Più le merende e la colazione Dopo cena Te l'ha detto anche il dentista Vero? Cosa ti ha detto il dentista? Non lo sai? Che dopo cena Si lavano i denti E non si può più Mangiare niente Ma sai Hai capito? Si ho capito Ma hai capito Vero? Si ho capito Perché adesso inizio a mettere Delle regole e dei paletti In questa casa Su tantissime cose D'accordo? Io ho capito Ok Allora cucciolini Sono molto arrabbiata Perché il loro stato Il loro malessere È dovuto solo ed esclusivamente A quello che mangiano E visto che mangiano Sempre fuori pasto E soprattutto mangiano Tantissimi dolci Di adesso vi dico una cosa Che da domani Stilerò Una lista Di regole Che loro dovranno Assolutamente Rispettare Ma non soltanto Sul cibo Ma sulla routine Quotidiana Ma cosa state giocando Sulla Playstation? Cosa avete scoperto? Cos'è che dici? A Roblox Avete trovato Roblox Sulla Playstation? Ma perché? Non lo sapevate Che c'era Roblox Sulla Playstation? No? Si Eh E non l'avevate E l'avete già scaricato? Ma così velocemente? Si Ci ha messo un minuto Come mai? Strano Noi non abbiamo Una condizione super super veloce E cosa stai facendo? Stai creando i personaggi? Ma non puoi entrare Col tuo account? No A few moments later Buon appetito Buon appetito Riso in bianco Vuoi il formaggio Vane? Che non ce l'ho messo? E poi mangio anche le patate Va bene Le assaggi Sì sì Buon appetito Riso in bianco anche per te Come buon inizio Eh? Sì E da domani Troverete le regole segnate La lavagna E si devono seguire Stai bene comunque Ti è passato tutto Vero? Sì Ma prima Certo Cos'è che mi hai chiesto? Vassa KitKat No Ma non li abbiamo Ehi Vieni qua Ti ho detto Ani Ti ho detto che non si mangia dopo cena Hai mangiato pochissimo E adesso non li mangi E poi non sono KitKat Tanto per iniziare Ma sono in Mikado Ah vero Non iniziare Ok Oh Ma hai capito cosa ti ho detto prima? Sì ho capito Ma si vede E ripeti Cosa ho detto prima? Che alla sera E non si mangiano i dolci Appunto Dopo il pasto Non si mangia più niente Oltre i dolci E non hai mangiato niente a tavola Io te l'avevo detto Adesso ti bevi una tisana No Anastasia ha avuto il coraggio di venire giù Non si mangia tutto E' un po' l'aretta Adesso ti contorcevi qualche ora fa sul divano Come puoi pretendere di mangiare l'oreo? Poi si vedeva i miei, si vedeva i due Bellesca Eh sono tutte diverse Grazie Ci vediamo tra pochissimo Al cinema Scegli il film Ah vediamo quello di ieri Ah certo E poi ci conti E poi guardiamo quei due Va bene Allora Vanessa Giornata finita Stai bene adesso? Sì però io me lo sento sempre Capito? Ti senti sempre un po' di dolore E magari L'addome si è un po' indolenzito Comunque domani starei meglio L'importante è che ti sono passati quei crampi Sì Eh avete capito quello che ho detto sul cibo? Sei sicura? Per domani a colazione? Ti ho detto che domani puoi fare colazione Con una cosa dolce E poi la merenda Basta Non che tutto il giorno vi stai Una sola cosa Per fare colazione ci sono tantissimi modi Io stamattina ho mangiato lo yogurt greco con l'uva E un cucchiaino di miele E' stata la prima volta che lo mangiavo E era la fine del mondo Dovresti provarlo Guarda Credimi E' buonissimo Iniziate a mangiare un po' sano Che vi fa solo bene la salute Ok? Educatevi Quello che hai detto con l'estate Ecco già l'estate ho zucchero Se tu mi mangi il pane con la nutella L'estate hai un accumulo di zucchero Nel pane c'è lo zucchero Nella nutella c'è lo zucchero Nell'estate c'è lo zucchero Per forza che poi il tuo stomaco piange E' normale Ma il pane che fai tu in casa non c'è lo zucchero Ma il pane che faccio io in casa no E' il pane in casa Eh No no Quello commerciale che fanno da vendere E' pieno di zucchero Soprattutto le fette Quelle confezionate Il mulino Allora Andiamo a dormire Eh? Una buona notte E ci vediamo domani Con le nuove regole da seguire Promesso questo eh Buonanotte Buonanotte Ciao amore Ciao Ciao Io ho tantissima voglia Di andare a fare Un po' di shopping natalizio Eh? E di vedere tante cosine natalizie Mi piacciono un sacco Io vorrei già fare l'albero di Natale Tu no? Oltretutto quest'anno Mi piacerebbe cambiare L'albero di Natale E quindi rifarlo Comprarlo nuovo E tutti gli accessori nuovi Ma a prescindere da questo C'è una cosa che Devo dirti C'è tantissima gente Che chiede a Vanessa Di farvi vedere Quanti trucchi E quali trucchi ha Quindi Magari Oggi Prima di uscire Ti faresti truccare da Vanessa Ok Ti piacerebbe? Eh? Così Prima glieli faccio mostrare E poi Usiamo te come modella Sei contenta? Sì Mi dico una cosa Anche al mio compleanno La mia compagna Mi ha regalato C'era una Tipo Una borsetta Con un sacco di cose C'era anche Una cosa da appendere All'albero di Natale È vero Sì Che non mi ricordo Se è un pupazzo di neve È un pupazzo di neve Vero? Va bene Allora finisci i compiti Così poi andiamo a truccarci Perché andiamo anche fuori a pranzo Ok? Sì Vediamo Non lo so Vediamo Ok more? Vale Ciao Che fai? Hai messo un po' di ordine? Sì E poi stai facendo scrivere Tutti i miei trucchi Che ho Ah ok E a proposito di questo Sono salita Come ho già detto Da Anastasia In tantissimi Mi hanno scritto Vanessa Che vogliono vedere Tutti i trucchi che hai Perché hanno visto Che hai dei bei trucchi Avevamo già fatto vedere Quando era arrivato tutto Quindi anche lo specchio E allora mi hanno chiesto Se puoi mostrarglieli E ho detto Da Anastasia Che sta finendo i compiti Che oggi voglio andare a fare Un po' di giri Per vedere Di acquistare Se troviamo qualcosa Che mi piace Di natalizio Qualche oggetto natalizio Magari anche un nuovo albero di Natale Però le ho chiesto Se dopo che tu mi hai mostrato Tutti i trucchi che hai Ti fa da modella E quindi la trucchi La trucco io Eh? Va bene? Quindi solo per oggi Anastasia potrà uscire Leggermente truccata Vane mi raccomando Che ha sette anni Non dobbiamo esagerare Quindi partiamo Intanto facciamo vedere Questa scrivania Che c'era da Da quando sei nata? Ah no Da quando siamo in questa casa Che avevi un anno Avevi un anno Sì Però qua è tutto Sembra nuova Sembra nuova Perché non la usiamo Praticamente mai Ma adesso io Non la uso molto di più Ok Vogliamo iniziare? Vogliamo iniziare? Da che cosa possiamo iniziare? Amore A mostrare Tipo i pennelli Io intanto vorrei far vedere Lo specchio Questo è uno specchio Molto bello Anche molto grande Sì sì Così abbiamo la luce fredda Esatto Però quando è buio si vede molto Si vede un di più Anche con la luce acceva si vede Certo Adesso Poi invece di qua Abbiamo la luce calda Ma quale preferisci? La fredda Poi la fredda Che ti schiarisce il viso E ti riesci a truccare meglio Immagino No? Sì Ok Alla destra fredda E alla sinistra calda Bellissimi E in mezzo si spingue No E in mezzo si spingue Ok Ok amore Va bene Da dove partiamo allora? Per vedere i trucchi? Dai pennelli Eh sì Sono pochi eh Non ne hai neanche uno Ma amore vuoi che te ne compri qualcuno? Questo pennello Non lo uso quasi mai perché È già stato usato Sì È un po' rovinato Sì non è uno degli ultimi che hai ricevuto No No Ma per il tuo compleanno Eh Quelli che ho ricevuto Quelli che ho ricevuto nuovi sono Questo Sì bellissimi Che uso quasi mai Sì Questo Sì Poi Questo Questo Sono quelli che usi sempre? Questo Beh No Sono quelli nuovi? Sì Ok Quelli che abbiamo preso per il tuo compleanno Giusto? Sì Questi E bastano Questo Ok Ehm E anche questo Questo che è di list Ok 12 12 pennelli Ognuno di loro vedo che ha una dimensione diversa Tipo Tu sai spiegare a me che sono completamente ignorante in materia perché io non mi sono mai truccata in 48 anni? Che lo sai benissimo Non è vero Ok Metto soltanto la matita negli occhi No però la giovanissima Assolutamente no Vanessa Io non mi sono mai truccata la zia Samantha Sì Io no Io ho sempre solo messo la matita negli occhi Non ho mai messo nemmeno il fondotinta Allora Mi piaccio così come sono Sporco Sì Poi Quindi quello serve per definire Sì Migliorare Scusa Scusami amore poi gli altri non li uso quindi va bene magari li userai più avanti e sì certo che mi fai vedere tutto quello che hai va bene amore passiamo a qualcos'altro allora qua io dopo essermi truccata magari mi metto gli orecchini sì o magari mi faccio la coda adesso iniziamo da qua iniziamo dal primo questo qua e anche della mamma sono quelli che ti ho comprato sì da poco ma li usi ogni tanto? sì sì ah bene questo fa il tatuaggio che tatuaggio fa questo? il cuoricino amore e qua mi metti l'eyeliner quello molto spesso ma tu riesci a metterlo? no proviamo su Anastasia dopo o su di te? no su di me adesso va bene proviamo? non sono bravissima fa niente amore quindi tu lo metti soltanto alla fine dell'occhio una volta si metteva su tutta la linea dell'occhio sì cioè io non riesco perché sennò mi faccio male pensa che non sono mai riuscita anch'io perché tremo e mi veniva sempre male e poi ci ho rinunciato e ho pensato beh è carino eh non è brutto poi vabbè tu hai degli occhi già che sono stupendi se ti metti anche questi trucchi qua fammi vedere fammi vedere ma sì è carino io non amo particolarmente questi trucchi eh per me sono eccessivi però per una serata un po' particolare si può anche fare ovviamente non alla tua età eh adesso stiamo solo provando tu li hai per gioco sono belli ma li hai per gioco perché così assolutamente tu sai benissimo che non esci ma quindi li hai regalati e anni suoi davvero? che carina e generosa hai visto? poi abbiamo passiamo al rossetto questo qua è bellissimo sì così è anche il rossetto è frutto dei nostri giochi bello sì amore ma non è vero perché alcune volte lo metto proprio piano e non si vede già guarda io non me ne sono mai accorta ma allora finché ti trucchi in una maniera naturale in cui non si nota nulla puoi truccarti quanto vuoi non me ne accorgo io figurati poi questo qua questo qua più un altro è simile a questo ma credo che sia più chiaro infatti sì è un po' più fucsia sì l'acceso questo è più viola quello è più viola sì poi da quest'altra parte questo altro quadratino cosa c'è? che sei abbiamo finito questo quadratino adesso abbiamo questo dove abbiamo tipo correttore ahà ecco questo che è anche quasi finito che fa così è un suggerimento il è anche quasi finito ok questo cosa serve Vane? per togliere no no per correggere per correttore se lo vuoi mettere poco usi questo quindi se hai un po' di occhiaie te le copre sì giusto? ok sporcato fa niente dopo questo poi abbiamo questo sì che questo è un anche questo è un correttore un correttore anche questo però molto non chiarissimo però è chiaro cioè così ok vediamo l'hai messo? sì ok se hai la pelle chiara usi questo sì ok va bene poi abbiamo il mascara che questo è un mascara lo conosciamo no no è diverso da quello che conosciamo noi guardate guardate wow fa il filo come mai perché te le fa molto lunghe di brutto no allora me lo devi prestare scusami perché non me l'hai mai detto oh allora dopo me lo presti va bene voglio proprio confermare quello che stai dicendo vediamo se è vero perché le mie ciglia a differenza delle vostre sono piccole e quindi con il mascara mi trovo un po' in difficoltà vai avanti adesso è finito il secondo quadrattino e abbiamo l'altro questo qua è un altro mascara però semplice quindi quello normale sì e ti dico una cosa quando lo metti in mascara non fare mai così ah perché il mascara dentro si secca ah ecco quindi fai così e tu lo metti l'ho sempre fatto certo eh sì l'ho sempre fatto perché mi stai dicendo di non far così perché nella maggior parte dei casi lo si fa e quindi qualcuno ha scoperto che non bisogna farlo adesso lo fa e lo stanno pubblicizzando e giustamente tu me lo stai dicendo ok poi c'è quest'altro che è quasi finito lo mio preferito cos'era amore quello oro quello bellissimo ma cos'è un correttore no è un set così color carne color oro vedi sì semplice però un po' brillante giusto? sì era il mio preferito me lo ricordo ho quest'altro rossetto semplice sì ma che ne hai di rossetti? un po' dopo vi faccio un'idea ok e secondo me questo qua è simile a questo non è vero è più chiaro è molto è più chiaro sì sì un altro un'altra variante del rosa parliamo di sopracciglia allora adesso ok facciamo questo cioè che serve tipo se ti svegli al mattino con queste sopracciglia te le metti a posto subito e devi iniziare con questo i pezzi sì ok con questo pennellino perché con questo non si inizia devi fare così e ancora se ci sono i buchi fai così ok questo è un lucidalabbra che uso alcune volte questo è del viola sereno senti ma quindi tu giustamente e ovviamente con le sopracciglia concludi qua quindi le pezzi ne basta giusto va bene ed infine abbiamo questo che è quello che mi hai regalato tu che è molto bello solo che è chiarissimo credo di averti regalato tutto io no 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 li hai comprati tu no no l'ho regalato tutto anche la nonna ah beh qualcosa la zia samantha poi abbiamo questo che è veramente chiaro è bianco è bianco sulla pelle è bianco guarda sì e infatti non fa nessun effetto no non ti piace no sì è bello però dalle foto sembra che quando lo sfumi è cioè è molto scuro invece questo qua dall'altra parte che lo devi mettere insieme è arancione guarda è un arancione marrone quindi non ti piace no va bene cioè no allora è bello perché si vede che sfumi quando eh ma cosa serve non ho capito però non fa tanto effetto che ti sembra che sei abbronziata ma dovrebbe fare l'effetto dell'abbronzatura sì è sottilissimo dove lo dovresti mettere su tutto il viso no sì qua 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 ah e poi lo spalmi sì ah ok il mio preferito il blush dove uso tutti i pennelli che sfumano quelli che ti ho fatto vedere prima sì sì e questo è il blush sembra così marroncino ma invece è rosa che quando sfumi è rosa bello guarda sì vedi quando sfumi adesso non si vede tanto molto naturale sì ok poi abbiamo questo stai di caffè cacao buono sentire mmm come mai eh non so l'ho trovato l'altra volta era tu ah che buono l'ho trovato l'altra volta in bagno sopra potrebbe tornare a me sì grazie anche perché è un colore che mi piace molto il marrone naturale si è buonissimo guarda che effetto fa guarda oh è la bella buona non vedo ah ok è scuro comunque eh sì prova via va bene abbiamo questo che invece è per la madre per le labbra sì prima metti contorno delle labbra e poi lo sfumi con questo ok poi abbiamo il fondotinta che metti dopo la crema è il primo fondotinta certo il trucco non può stare senza fondotinta e poi il preferito della mamma sì come no sì sì preferito su di te ma io non riesco assolutamente ad utilizzarlo aspetta un secondo e facciamo vedere guarda che conoscono tutti immagino ma io eh niente se provo ad avvicinare questo strumento ai miei occhi svengo io non lo voglio questo mi manca l'aria mi viene l'ansia vedi è molto diverso è certo guarda per me non fermi che sono già no ma infatti anche le sue per carità poi abbiamo le mie spugnettine no siamo arrivati quasi alla fine sì sei piena di spugnettine tutte colorate che uso per il fondotinta magari alcune volte per un altro blush che vi farò vedere certo queste sono molto belle questa qua mi piace un sacco va bene questo mi ha regalato la zia samantha quando eravamo in inghilterra ok guarda che bello bello questo qua è l'illuminante no questo questo e questo sono l'illuminante ma l'illuminante mamma guarda tanto tanto è l'illuminante vediamo wow e poi abbiamo gli ombretti che sono bellissimi va bene e poi un'altra paletta come se non è chiaro vedi qua non ce li ha al grit ok qua abbiamo gli ultimi miei rossetti alleluia quindi direi che quelli allora quello rosso sì va bene cambiano quello color carne e poi quelli fucsia e quelli altri rossi belli 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 e poi qua l'infine un'altra valigetta abbiamo qua quelli che non so devi andare in un viaggio metti certo i pennelli che vuoi e poi invece qua è la terra la terra si mette magari dopo prima del blush o se non vuoi mettere il blush qua abbiamo il blush che lo uso con altri pennelli sì però più chiaro qua invece abbiamo la cipria molto bella sì che mi piace un sacco va bene e qua l'ultima mia cipria così poi è un po' più oscura bellissima però bella anche questa va bene moltissima comunque va bene va bene sei pronta? ascolta però forse è meglio che ti cambi prima sì perché se no poi ti rispondi signorina ce l'hai fatta? ti sei cambiata? benissimo quindi adesso Vanessa ti truccherà in maniera molto leggera per uscire a pranzo ma che ritardo dobbiamo partire magari va bene poco poco eh ma se neanche ci vede vuol dire che non è scuro poco poco lo stesso perché si è piccina piccina ma quella è la mia pelle guarda un pochino oscurina quando va al mare mi abbronzo questa pelle esatto guarda quando va al mare si abbronza ha questa pelle ok poi qualcosa per ammorbidirle le labbra perché ho visto che le ha molto secche guardami perfetto il corretto uso dei pennelli adesso mettiamo il blush che mi ricorda tanto quello che l'hai messo prima infatti perché ha la punta uguale no ma anche il colore vero ma perché devi usare proprio il perfetto pinnetto si ok aspetta mettiamolo ancora ti piace un po' nel nasino un po' nel nasino fa vedere guardami 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 se ferma guardami 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 cosa stai facendo illuminato ah giusto quindi vai a illuminare solo alcuni punti anche io voglio il cuoricino voglio il cuoricino ok dove lo vuoi il cuoricino qua voglio qua dai lo spero non la fai dove ah qua vediamo guarda tu puoi sceglierne uno o due perché ti spiego due fai finta che scegli il bianco e il rosa qua ti metto il bianco e il poco rosa allora voglio questo rosa ok questo è glitter no sicuro è glitter Anni ma dobbiamo uscire con i glitter se è troppo ci sono anche questo questo e quello i glitter si vedono troppo no ho tenuto allora noi facciamo questo sopra e poi con questo guardami guardami no non chiudere forte normale ok ora sono le lampe allora cosa state facendo adesso ho già scelto questo qua e questo è un lucidalabbero morbidente sì quello trasparente non si vede va bene sarà un po' lucido fammi vedere guarda la musiera sì è bella lucidalabbra va bene perfetto allora bimbe grazie Vanessa per questa dimostrazione per avermi spiegato per averci spiegato un po' l'utilizzo di alcune cose ma sicuramente chi ti segue sa però mi hanno chiesto che appunto avevano piacere a vedere tutto ciò che tu avessi cercheremo di prendere altre cosine magari per Natale chi lo sa eh va bene faremo uno shopping pazzo online e poi faremo un video anche in merito a questo eh ciao amore fate vedere sei bellissima truccata delicatissima leggerissima sei veramente bella ciao ciao bimbe dobbiamo andare a far colazione al bar ciao amore eh amore sì eh poi accompagniamo Dani all'instazione ok cucciola cucciolina amore Dani vado giù a bere il caffè poi ti richiamo vengo su ok stiamo andando al bar a fare colazione e Anni cosa prendi? oh non lo so io l'abbio c'è la nutella c'è la nutella io sono o una lacrima se no una nutella così e l'abbiamo fatto colazione al bar solo che non vi ho ripreso perché mi sono messa a chiacchierare ma tu e cosa hai mangiato racconta allora la biocchio con la nutella sì e l'estate anche la biocchio con la nutella due e Vanessa restate come me esatto allora adesso siamo venuti in farmacia e raccontiamo perché Vanessa cosa vuol fare la mamma allora come stavo dicendo siamo venuti in farmacia perché ho deciso di smettere di fumare oltretutto c'era una persona che mi scriveva sempre ma Romina ma fumi? e io non gli rispondevo anche perché avevo già in testa questa cosa di voler smettere di fumare perché sono veramente tantissimi anni che fumo però negli ultimi 10-12 anni invece ho iniziato a fumare la sigaretta elettronica ma non è servito a molto anzi forse ha peggiorato la situazione perché ce l'ho sempre in mano e si notava anche nei video perché in ogni scena in cui si vedeva la mia mano c'era la sigaretta quindi ho deciso di smettere di fumare siamo andati in farmacia perché ho bisogno di essere aiutata dai cerotti e più tardi tra un paio d'ore i miei cerottini arriveranno e io metterò il primo e vediamo come va mi raccomando scrivetemi nei commenti se secondo voi ho fatto la scelta giusta e supportatemi soprattutto perché ne avrò bisogno adesso invece andiamo a fare due compere al supermercato perché ragazzi voi non sapete che non vi abbiamo ancora detto una cosa importantissima che oggi vedrete per la prima volta cucciole chi facciamo vedere oggi per la prima volta e chi è daniel esatto bimbe perché lo accompagniamo in stazione perché dove va daniel va a roma per una settimana da un amico che compie gli anni e lo ha invitato al suo compleanno quindi adesso andiamo a prendere due cosine al supermercato e poi ah poi andiamo a prendere anche non elisa non sapevo che compie gli anni sì il suo amico di roma sì compie gli anni poi andiamo a prendere anche non elisa perché anche non elisa vuole salutare daniel allora ci vediamo tra pochissime abbiamo fatto tutto adesso andiamo a prendere non elisa e finalmente daniel e lo portiamo in stazione ti dispiace che parte daniel un pochino ma poi torna dopo una settimana torna e ce lo coccogliamo tutto va bene è anche giusto che lui vada a trovare gli amici si fa il compleanno siamo arrivate sotto casa di daniel stiamo aspettando che scende ricordiamoci di dargli i biglietti se non rimane a novara ma chi c'è qua con noi don elisa ci sono anch'io devo salutare il mio nipotino che va a fare una vacanza e certo e quindi ci dovevo essere assolutamente ma che bella maglietta tutta colorata fantastica vero sempre in picasso allora è la moda è la moda adesso devi andare dietro perché danielino dietro non ci sta e quindi ci vado io poi lo salutiamo vuole un seggiolino anche per me eh non c'è però mi incastro tra di loro se qualcuno vuole offrire il proprio seggiolino alla nonna non ridere perché a una certa età bisogna si torna indietro ma non è il tuo caso ma non è il tuo caso sto scherzando ragazzi tra poco oggi è il sei sei tra sette giorni è il mio compleanno vediamo quanti di voi mi faranno gli auguri quindi il tredici settembre tredici settembre va bene scrivete nei commenti e mi dite anche quanti ne dimostro guarda su questo sei rovinata a me ne hanno dati sessanta a luglio esatto quindi aspettati qualsiasi cosa ma mi raccomando scrivete nei commenti il tredici settembre tanti auguri nonne Lisa ok ciao un bacio cuccioline e cucciolini allora siamo in stazione con il nostro fratellone che sta per partire mancano pochi minuti deve prendere il treno quindi salutiamo Daniel ciao Dani ci vediamo prossima settimana un bacione allora mi raccomando Dani fai il bravo comportati bene e ci vediamo tra una settimana siete tristi? no pochino Danielino se ne sta andando insieme al suo amico Daniele e speriamo che si divertano tanto questa è la prima esperienza di Daniele in cui va via da solo in vacanza quindi speriamo vada tutto bene io ho un po' d'ansia però è giusto che faccia questa esperienza prima o poi toccherà anche a voi ma molto poi che prima cioè versi 30 35 forse 38 va bene io sarò vecchiesta e voi mi porterete con voi ehi cos'è quella faccia? tu che mi hai sempre provesso che starai con me ho visto una faccia un po' particolare deludente e invece Valessina scusa? non ho capito bene non ho capito cos'hai detto? voglio andare solo con una mia amica della classe e poi un altro giorno vado solo con te della classe allora abbiamo già cambiato le carte in tavola prima era solo con me solo 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 e hai detto che se andavi a bere un aperitivo mi portavi adesso mi stai già escludendo comunque io sono tranquilla ma sì anch'io sono tranquilla però insomma ha 17 anni siamo venuti a prendere da mangiare a Gasper e c'è un acquario mi ha detto guarda c'è un pesce che è così e dov'è questo pesce? è il pesce che si mangia tutte le impurità dentro l'acqua ma guardalo è attaccato è una ventosa attaccato al vetro guardate mi diamo quali cibo? non lo so se si può no no lascia stare prima che li uccidiamo che gliele diamo troppo e questo che cos'è? questo è cibo è cibo andiamo dai quello è il cibo perché il cibo va in profondità sì può darsi ascoltate andiamo a casa così diamo da mangiare a Gasper e mangiamo anche noi non avete fame? a mezzogiorno? andiamo cucciole dai sì allora tu Vanessa oggi vuoi fare la ceretta? sì perché inizia la scuola tra poco? vediamo dai che sia ben chiaro io e non Elisa che è appena andata via cioè stamattina l'abbiamo lasciata poi lei è tornata dopo pranzo e mi ha aiutata terribilmente a fare ordine negli armadi questo è l'armadio di Vanessa che a te interessa poco però guarda qua ci sono due scatoloni con i vestiti che a Vanessa non vanno più belli e che ho tenuto per te per quando sarai un pochino più grande prendi questo è l'armadio di Ivane e non c'è più niente guardate amici ridotto ma voi non potete capire cosa c'era anche qua sotto Anastasia guardami cosa stai facendo? poi spiega perché sei così eccitata ma lo spieghiamo alla fine del video qua era pieno di cose che non si usavano adesso ce ne sono lo stesso tantissime incredibile questi sono tutti i tuoi cappotti ok? poi ci sono degli abitini ok e poi basta adesso invece apriamo il tuo io apro io allora aspetta ti dico solo una cosa questo armadio ok ha tre ripiani tre gli ultimi due in alto non li abbiamo fatti perché eravamo distrutte guarda amore ma non c'è più niente neanche per te amore andrà in giro nuda quest'inverno allora ti spiego mi siete dimenticati di mettere qua no eh sì perché erano nuove erano ancora così ti spiego se non ricordo male allora questo è il tuo questo è di Vane ok intanto lo so che fra sono queste sono incontrando vedi che Vanessa ha già le vabbè ma fa niente tanto Vanessa Anastasia stima stima ma devi stare zitta un secondo ma quello lì l'ho già fatto quando siamo tornati dalle vacanze questo è di Vanessa ordinatissimo il tuo è di là ah vieni ti faccio vedere perché di là ho appeso altri vestitini ma Vanessa Anastasia guardate ragazzi voi non ci potete credere queste sono tutti i sacchetti che andranno in beneficenza ma vedete quanti sono che daremo i bimbi poveri no quello il tuo armadio è questo Anastasia vieni Ani e voilà guarda quanti abiti è mio sì è tuo era di Vanessa e l'ho messo a te perché è ancora bello e nuovo quest'anno noi ci siamo non vi sta no ancora è grande l'ho messo di qua perché è un estivo guarda guarda posso metterlo con la giochetta questa anche questo allora sì certo anzi wow hai visto aspetta che accendo la luce hai visto quante cose carine nuove e anche quei Anastasia no quelle è mio Anastasia ascoltami avevamo talmente tanti abiti che la metà della metà di quello che avevamo l'abbiamo lasciati qui non li abbiamo nemmeno provati in vacanza perché ora vi dico la cosa che io sono emozionata ok perché ve lo dico dopo il perché perché Anastasia non mi fa parlare aspetta che chiudo se non entra il gatto ciao se non entra il gatto allora allora spiega perché sei così eccitata perché sì romani sì cosa succede andiamo a Roma madonna Anastasia ti fai male non andiamo da nessuna parte andiamo a Roma sì Anastasia sbettila no Ani Anastasia calmati non ti porto da nessuna parte se fai così guardate con la copriola boom ok domani dovremmo riuscire ad andare a fare gli ultimi due giorni di vacanza perché l'unodio inizia la squadra due giorni sì due giorni proprio due giorni ora andiamo insieme a nostri amici che poi faremo vedere perché poi faremo il video del viaggio mi ricordate il mio figlio di Antonio è loro esatto se ve lo ricordate scrivetelo dove nei nei commenti esatto allora ma c'è un'altra notizia stupenda e qui sono io che dovrei saltare non tu io lo so quale la notizia sì amore te l'ho detto prima quanti iscritti siamo arrivati a 1.303 se eravamo 1.303 iscritti mi buttavo giù dalla finestra 100.000 iscritti grazie devi dire grazie a tutti questi 100.000 iscritti grazie a tutti a questi 1.000 iscritti 100.000 non 1.000 1.000 1.000 son pochi 100.000 100.000 ma devo salutare qualcuno iscrivetevi ancora sì devo salutare qualcuno chi devi salutare ce ne sono tantissime come si chiamava quella a me lo chiedi io non ricordo nemmeno come ti chiami tu Maria Giulia forse ah sì Maria Giulia o Giulia Maria forse no Maria Giulia o Giulia Maria vabbè ma tanto lei ha capito che si tratta di lei dai quante Maria Giulia ci saranno al mondo tante e Maria Giulia e Maria poi aspettate devo vedere cosa guardate è sul mio telefono perché io ho fatto una foto perché su questo gioco tu puoi fare uno screenshot ho guardato e dobbiamo salutare Ambra e Maria Giulia eppure un'amica della nostra fan che lei però non mi ricordo come si chiama perché non mi ha detto il nome forse me l'ha detto ma non trovo la foto va bene va bene ok intanto è arrivata anche Vanessina Vanessina ma fai calma ringraziamo i nostri 100.000 iscritti grazie a tutti grazie mille ai 100.000 iscritti pazza Anastasia io sono sicura che tu ti farai male e non andiamo a Roma ma andiamo in ospedale ragazzi continuate a scrivervi a scrivervi e saluto anche Serena ciao Serena ciao che è venuta che è venuta in mente in questo momento saltando qua e là il cervello ha resettato Alba e Maria Giulia ciao va bene adesso calmati e Serena si l'hai già detto l'hai già detto Maria Giulia l'hai già detto 15 volte Vanessa e poi io concluderei prima oh va bene allora Vanessa sei contenta si che andiamo a Roma si o dei 100.000 iscritti tutti e due io no di più che andiamo a Roma io di più che dei 100.000 iscritti comunque dopo tutta questa fatica il regalino che ho fatto mia mamma guardate il regalino che ho fatto è pazza guardate eh sì no no ma mica tu eh la zanzarana che avevo una zanzarina un po' folle qua guarda che bellissimo ma non l'avevo mai vista no grazie amore questo lo porterò sempre nel cuore e poi questo è un valenza i dati wow ma è stupendo ma queste sono quelle che trovavamo no in cruciera nel luogo di pasqua nel luogo di pasqua va bene ragazze andiamo a fare gli zainetti perché domani sì parte pensa se non partiamo no facciamo lo zainetto ragazzi dobbiamo stare due giorni proprio salutiamo i nostri centomila iscritti che sono Anastasia Anastasia ti devi calmare devo dirvi una cosa la mamma ora fa uno short che noi facciamo lo zaino vero? no può darsi poi mi leggi nel pensiero ma il dente anni secondo me ti cade a Roma va che la fatina di Roma è chirchia e non porta soldi è un po' manazza posso fare una cosa se no ti porta una carbonara secondo me ti porta una carbonara mi guarda solo ma lei no vabbè aspetta salutiamo salutiamo ma devo fare il video però non guardo devi fare il video? sì non guardare ok è arrivata fatina di Roma ti auguro un bel viaggio l'hai visto? no però ho sentito dai salutiamo i nostri iscritti dai cucciolini e cucciolini ciao iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel raga questo video ciao è arrivata mezzanotte le campane sono in festa voglio spiare papo natale non ci vedo niente di male presto Anastasia corriamo giù mamma è presto